Per noi rappresenta il sogno che ormai sta realizzando, veramente da tanti anni che si perseguiva questo intento e finalmente riusciamo a concretizzare ciò che Santa Paola vuole. Questa chiesa che nasce come cappella annessa ad un centro di aggregazione giovanile viene denominata Oasi della Gioventù e ci rivolgiamo proprio ai giovani. Siate positivi, scegliete la strada dei sacrifici perché questo porterà buoni frutti. Maria è felice per questo, tutti siamo felici e veramente è un miracolo pure questo, poterla realizzare questa chiesa.